Una professione totale di speranza in un mese di mille tragedie. A rileggere a volo d'aquila le parole di Francesco pronunciate nei Cinque Angelus e nelle quattro udienze generali del mese di agosto, gli insegnamenti del Papa sembrano un sole provvidenziale e consolante, acceso, oltre quello estivo, che batte ogni giorno implacabile, sul panorama desolato di una cronaca che inanella drammi in serie. Il 2 agosto l'argomento della catechesi tenuta in aula Paolo VI è il battesimo. In questo sacramento Francesco vede la porta della speranza che genera uomini e donne che continuano, dice, a fare professione di fede nella luce. Non credono nell'oscurità, ma nel chiarore del giorno. Non soccombono alla notte, ma sperano nell'aurora. Non sono sconfitti dalla morte, ma annellano a risorgere. Non sono piegati dal male, perché confidano sempre nell'infinite possibilità del bene. È come se il Papa piantasse il primo piolo di una riflessione che vuole opporre la forza della luce cristiana alle oscurità che generano il male. L'Angelus del 6 agosto sublima questo pensiero nella trasfigurazione di Cristo sul tabor, che ci induce, afferma Francesco dalla sua finestra, a scendere dal monte ricaricati dalla forza dello Spirito Divino per testimoniare costantemente la carità. Una discesa che si cala nella storia e si fa solidarietà. Già nell'udienza generale di tre giorni dopo, parlando del perdono divino come motore di speranza, Francesco deve esprimere anche il più acuto dei dolori per un pastore universale. Sono rimasto molto adorato dalla strage avvenuta domenica scorsa in Nigeria all'intento di una chiesa dove sono state uccise persone innocenti. Auspico che cessi ogni forma di odio e di violenza e non si ripetano più crimini corsi vergognosi perpetrati nei luoghi di culto dove i fedeli si radunano per pregare. E pochi giorni dopo all'Angelus dell'Assunta del 15 agosto il Papa si fa figlio che affida ogni pena alla mamma del cielo. A Maria, regina della pace che contempliamo oggi nella gloria del paradiso, vorrei affidare ancora una volta le ansie e i dolori delle popolazioni che in tante parti del mondo soffrono a causa di calamità naturali, di tensioni sociali o di conflitti. Arrivano le notizie dalla Sierra Leone colpita da alluvioni e smottamenti con oltre 400 morti e 600 dispersi e poi come colpi di maglio le notizie dell'attentato terroristico a Barcellona, in Finlandia, in Burkina Faso, del terremoto a Ischia. Ma il Papa, tra preghiere di suffragio e denuncia dell'orrore, continua a indicare fisso la bussola della speranza e all'udienza del 23 agosto chiede ai cristiani di guardarsi in fondo all'anima per capire se nel mondo siano in grado di fare la differenza. Non dimenticate quella domanda. Io sono una persona di primavera o di autunno? Di primavera che aspetta il fiore, che aspetta il frutto, che aspetta il sole, che è Gesù. O di autunno che è sempre con la faccia guardando in basso, amareggiato, è come alcune volte ho detto con la faccia dei peperoncini all'accetto. In piena sintonia con questa sollecitazione, la settimana successiva, soffermandosi sul rapporto tra speranza e memoria, Francesco ribadisce, il Signore non vuole uomini e donne che camminano dietro a Lui di malavoglia, senza avere nel cuore il vento della letizia. La conclusione ideale emerge dalle parole dell'Angelus di domenica scorsa. Noi certamente non ci sentiamo delle rocce, ma solo delle piccole pietre. Tuttavia, nessuna piccola pietra è inutile. Anzi, nelle mani di Gesù, la più piccola pietra diventa preziosa, perché lui la raccoglie, la guarda con grande tenerezza, la lavora con il suo spirito e la colloca nel posto giusto che lui da sempre ha pensato e dove può essere più utile all'intera costruzione. Durante il mese trovano spazio anche altri momenti, come l'udienza di Francesco alla squadra di calcio tedesca del Borussia Mönchengladbach il 2 agosto e giovedì scorso a una delegazione della Conferenza dei Rabbini Europei, del Consiglio Rabbinico d'America e della Commissione del Gran Rabbinato di Israele. Il nostro dialogo, ha detto loro il Papa, è fecondo.